Musica Telespettatori marchigiani, buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Un operaio impegnato nei lavori della nuova galleria lungo la statale salaria tra Acquasanta Terme ed Arquata del Tronto in località Trisungo è rimasto ferito. Proprio mentre stava finendo il turno pomeridiano di ieri l'uomo per causa in corso di accertamento è caduto a terra battendo la testa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e personale del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Le condizioni del lavoratore comunque non destano preoccupazioni. Un uomo di Grotta Mare ed una donna di origine russa, entrambi trentenni, sono stati arrestati dai poliziotti del commissariato di San Benedetto del Tronto al casello dell'autostrada. Addosso avevano 45 grammi di eroina pronta per essere venduta. Gli agenti li stavano seguendo da tempo quando è scattato il blitz a cui è seguita la perquisizione domiciliare presso un appartamento di Martinsicuro in Abruzzo dove è stata rinvenuta una modesta quantità di ascici ed un bilancino di precisione. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP. Ed ora cambiamo per un attimo argomento. È stata davvero grande festa domenica scorsa a Caldarola per una nuova chiesa con i vecchi edifici sacri tutti danneggiati dal sisma. Vediamo. Domenica scorsa in occasione della celebrazione delle Cresimi e dei ragazzi di Caldarola è stata ufficialmente inaugurata la nuova struttura donata dalla Caritas Nazionale. Come noto infatti le sante messe e tutti gli appuntamenti religiosi negli ultimi anni si sono svolti in moduli provvisori poiché tutte le chiese del territorio sono state gravemente danneggiate dal sisma. Il nuovo edificio realizzato nei pressi dell'area SA è totalmente antisismico perché in legno ha permesso di partecipare ad un'emozionante cerimonia celebrata per l'occasione dal Cardinale Edoardo Menichelli al quale è stata affidata anche la benedizione della nuova struttura. All'esterno della chiesa è stata realizzata un'ampia tettoio di 100 metri quadri per permettere ad una platea più numerosa di prendere parte alle funzioni religiose. La struttura anch'essi in legno è stata costruita grazie al coinvolgimento della protezione civile sensibilizzate in prima persona dal sindaco Giuseppetti pienamente consapevole dell'ampia partecipazione della sua comunità ad eventi religiosi. Torniamo alla cronaca. All'alba di oggi i carabinieri di Ancona e quelli di Teramo hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Ancona su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di quattro donne di etnia Rom ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata la commissione di furti pluriaggravati in concorso 24 in vari appartamenti del centro Italia ed in debito utilizzo di carte di credito e carte di pagamento. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di Osimo. Incidente oggi sulla superstrada 77 nello scontro tra un camion ed un'autovettura quest'ultima si è ribaltata subito dopo lo svincolo per Morrovalle. Il conducente un 30 settenne di Corridone è stato trasportato al pronto soccorso di Macerata. Normative ad hoc e più assunzioni è la ricetta del lanci per sbloccare la ricostruzione. Sentiamo. Il più grande cantiere che va sbloccato in Italia è la ricostruzione post-sisma e per farlo oltre ad interventi normativi ad hoc servono più assunzioni di personale negli enti locali. A sottolinearle lanci l'associazione dei comuni nel corso di un'audizione sul decreto sblocca cantieri all'esame delle commissioni, lavori pubblici ed ambiente del Senato. In sede di conversione del provvedimento si chiede che venga in generale potenziato il personale a supporto delle attività che stanno svolgendo i comuni e che sia ulteriormente potenziato in ragione del trasferimento delle funzioni. In generale lanci esprime la sua soddisfazione per un provvedimento che accoglie la maggior parte delle proposte dell'associazione. Via libera nelle marca i cimiteri per animali di affezione li prevede la proposta di legge approvata oggi dal Consiglio regionale. Detta criteri e disciplina le modalità per realizzare cimiteri dedicate agli animali di affezione sia da parte di enti pubblici sia di associazioni private o di privati cittadini con confini comunali o intercomunali. La sepoltura sarà possibile a condizione di un certificato veterinario che esclude il decesso per specifiche patologie trasmissibili all'uomo, prevista anche la possibilità di cremazione. Vediamo ora ad un appuntamento molto particolare. Si terrà a Corinaldo, uno dei borghi più belli d'Italia, sabato prossimo il primo Disconnect Day nazionale. L'iniziativa per farci capire quanto siamo dipendenti da smartphone e tablet. L'evento prevede incontri, attività e laboratori per adulti e bambini ma ogni partecipante dovrà spegnere il proprio telefono o dispositivo e sigillarlo in un'apposita busta consegnata presso uno degli infopoint sparsi nella cittadina in modo da passare almeno tre ore senza interferenze o distrazioni tecnologiche. E torniamo ad occuparci del fitto, programma che interesserà le Marche al Salone del Libro di Torino in programma da giovedì a lunedì prossimo con il riconoscimento tra l'altro di regione ospite di questa 32esima edizione. Sentiamo il Presidente del Consiglio regionale, Mastro Vincenzo. L'obiettivo è far conoscere l'immenso patrimonio culturale della nostra regione, una ricchezza enorme in termini di libri, di editori, di autori. 100 eventi, 200 relatori, tantissimi centinaia anche gli autori presenti, 70 editori, 30 festival che presenteremo al pubblico presente, con al centro una figura importantissima per la nostra regione, fondamentale per la nostra cultura, che è quella di Giacomo Leopardi. Al tema dell'infinito, ai 200 anni dalla sua stesura, sarà dedicata la serata centrale di giovedì sera, alla presenza di centinaia di editori nazionali ed internazionali. Credo che questo evento ci darà una grandissima visibilità e un grande riconoscimento per la nostra regione. Apriamo la pagina sportiva di oggi con la Palla Volo, vigilia di gara 2 di finale Scudetto domani al Palabarton. Sir Safety Perugia e Cucine Lube si affronteranno in una sfida che potrebbe risultare davvero determinante, considerando che ora la situazione è di perfetta parità. Il match avrà inizio alle 20.30 ed è stato affidato alla direzione arbitrale di Stefano Cesare ed Armando Simbari. Gara 4, ormai certa, si disputerà invece a Civitanova sabato 11 maggio alle ore 18. Nel frattempo è stato salutato nella giornata di oggi lo schiacciatore statunitense Brandon Sander. È stata accolta la richiesta del giocatore di prendere parte ai Koyo Tryout per scendere in campo nel prossimo campionato coreano che si terranno a Toronto, in Canada, nei prossimi giorni. Ed ora la consueta rubrica settimanale di ciclismo, curata con la collaborazione di Umberto Martinelli e dedicata ai giovanissimi. Il politico giovanile continua nel proprio percorso. Reginetta si conferma all'alma juventusfano che procede a suon di doppiette, imponendosi tanto nell'arena della partecipazione quanto nella gradatoria punteggio. Ultima tappa nella fermana pedaso in cui fanno passerella le speranze dai 7 ai 12 anni, espressioni delle benemerite scuole ciclistiche provenienti da varie regioni italiane. La chiamata a cui volentieri si risponde è quella del gruppo sportivo Mountain Bike Porto Sant'Elpidio, gestito da Sauro Mazzante, affiancato da Giuseppe Paniccià, Annalisa Lanciotti e valenti collaboratori. Trofeo città di pedaso alla terza edizione. Movimento promozionale all'ennesima affermazione ludico, agonistica, formativa. Di nuovo superati gli ostacoli derivanti dalle minacce del maltempo. I verdissimi agilmente si disimpegnano sullo scorrevole circuito della cittadina adriatica. Classifiche maschili G1, primo Gianluca Catalani, team cicli Cingolani davanti a Francesco Colette e Matteo Di Lorenzo. G2 successo per Riccardo Barbini, pedale chiaravallese davanti a Simone Ringhini, Alma Juventus Fano e Leonardo Grini, Bici Adventure, Piangerelli, Quinta Ba. G3, primo Kevin Piccoli, Alma Juventus Fano davanti ad Alessandro Senesi, pedale chiaravallese Riccardo Pierangelini, studio moda. G4, primo Tommaso Cingolani, team cicli Cingolani davanti ad Edoardo Fiorini, pedale chiaravallese e Filippo Cingolani, team cicli Cingolani. G5, primo Alessandro Baldelli, Alma Juventus Fano davanti a Mirko Sgherri e Cristian Giacobbi. G6, primo Luca Nicolosa, Alma Juventus Fano davanti ad Andrea Lerna e Daniel Mincone. Nel femminile successi per Gaia Cameli, pedale rossoblu Picenum, Viola Minnoni, Opi Bike, Letizia Esposto Giovannelli, Alma Juventus Fano, Giulia Giacobbe, potenza rinascita, Elisa Corradetti, pedale rossoblu Picenum e già dalla Coppa Cicli Fiorin. Società partecipazione, prima Alma Juventus Fano davanti a pedale Teate, pedale rossoblu Picenum San Benedetto, team cicli Cingolani, amici della Bici Junior Pescara. Punteggio, prima Alma Juventus Fano davanti a pedale chiaravallese, team cicli Cingolani, approfondimenti, giovedì ciclismo, TVRS canale 11 alle 22.30, venerdì sulle strade, TVRS Marche canale 11 alle 20.15. Basket c'è sempre il dubbio. Andrea Traini nella poderosa Excel Extra Light Monteranaro che domani alle 21 sarà impegnata nella bella degli ottavi di finale playoff di Serie 2 al Palasavelli di Porto San Giorgio contro il Latina. Le condizioni del play portorecanatese verranno valutate ora per ora e si deciderà in extremis. Calcio sempre domani alle 16.30 si gioca la semifinale playoff di eccellenza. Il Fabriano Cerreto, dopo aver visto sfumare il secondo posto andato al Porto Sant'Elpidi, affronterà in casa la rivelazione urbana del grande ex Gianluca Fenucci che cercherà quindi di proseguire una stagione sin cui ottima, domenica 12 maggio la finalissima al Ferranti prima di iniziare le fasi nazionali. Andiamo ora a vedere quali saranno le previsioni meteo per mercoledì 8 maggio. Da Moplan Arredamenti a Castelplanio continuano le promozioni e gli sconti. Una visita è d'obbligo per chi lo showroom è completamente rinnovato. Linee, rapporti, materiali, colori, si respira il nuovo, la bellezza, la modernità della casa di oggi. Anche su misura del tuo spazio. Varie possibilità di pagamento. Moplan Arredamenti a Castelplanio viene sempre incontro perché da sempre è dalla tua parte. Bentornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per mercoledì 8 maggio. Una nuova perturbazione di origine atlantica raggiunge le nostre regioni settentrionali sfiorando anche parte di quelle centrali mentre sul resto dell'Italia la pressione è in aumento. Al centro nuvolosità in aumento sulla Toscana centro-settentrionale tuttavia senza precipitazioni associate mentre sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di un grado e non supereranno i 13 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 18 gradi al nord e 22 gradi sia al centro sia al sud. Concludiamo ancora con una notizia di calcio. Atletico Ascoli Civitanovese si giocherà domenica alle 16 al Picchio Village. Niente del Duca quindi per la finale playoff del Girone B del torneo di promozione. La società Rosso Blu ha chiesto 500 biglietti per i propri supporters e non è da escludere che ci saranno anche i tifosi della Samba a sostenere la Civitanovese nella sfida decisiva per il salto di categoria. Da segnalare come la Civitanovese non potrà essere ripescata in caso di sconfitta perché la propria matricola è nuova di due anni e quindi in caso di K.O. contro l'Atletico Ascoli il Rosso Blu rimarrebbero certamente nel campionato di promozione. E con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per averci scelto. A domani. Grazie per averci scelto.